Vi racconterò la storia di chi visse con l'intuizione, di chi visse con l'intenzione di andar contro pecunia e paria e vi dirò di quarantotterdi e di esistenze fulminate, di vicende troppo vissute, di chi visse da bastardi e vi illustrerò l'Europa dopo comune rivoluzione, dopo boom di occupazione e tutto questo vi racconterò, signorio sono, in San Van Gogh Vi disegno di sopporghi, manciatori di patate, di una vita da tarrate mille storie di sopporghi e vi presenterò un caffè, una luce e tinte forti, i suoi uomini contorti, liberi e fraterni e vi racconterò una notte, passata qui nella mia stanza con la luna, nella sua distanza delle mie grida rotte tra socialismo e impressionismo, storie delle storie umane di borghesi e di grandami e tutto questo vi racconterò, signorio sono, in San Van Gogh e vi disegno di sopporghi, manciatori di patate, di una vita da tarrate e di mille storie di sopporghi e vi disegnerò un caffè, una luce e tinte forti, i suoi uomini contorti, liberi e fraterni e vi illustrerò l'Europa dopo comune rivoluzione, dopo boom di occupazione e tutto questo vi racconterò tra socialismo e impressionismo, storie delle storie umane di borghesi e di grandami e tutto questo vi racconterò, signorio è Vincent Van Gogh almeno attra quotidiano e tutti i dei Socri